e allora signore e signori ci siamo Pasquali di Ascoli Viceno al video checker oggi c'è azzurro la prima lana Marco Polizzo sulla panchina monsella e con 18 Marco tutti insieme tutto pronto per l'inizio del insieme a me che miro per la comparte a tutti i nostri ammati a tutti i nostri ammati che miro per i nostri ammati a tutti i nostri ammati Grazie! 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 Grazie. 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 Grazie.